La quinta ed ultima declinazione latina è un contenitore con pochissimo contenuto. Infatti comprende un numero molto ristretto di sostantivi e in particolare pochissimi nomi maschili, pochi nomi femminili e addirittura nessun nome neutro. La quinta declinazione è costituita da nomi che hanno tema in e di quantità lunga e che escono in ei al genitivo singolare. Vediamo il modello di declinazione con due esempi, uno maschile e uno femminile. Partiamo da un nome maschile che significa il giorno, cioè il sostantivo dies. Si declina così al singolare dies, diei, diei, diem, dies, die. Al plurale dies, dierum, diebus, dies, dies, diebus. Passiamo ora ad un nome di genere femminile. Scegliamo il nome res, molto generico, significa cosa. Si declina in questo modo. Al singolare res, rei, rei, rem, res, re. Al plurale res, rerum, rebus, res, 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 rebus. Spero di esservi stato utile. Se è stato così lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale youtube. Alla prossima pillola di latino o più in generale al prossimo video. A presto!